Musica Bentornato Gutier, bentornata Ci avviamo alla conclusione della spiegazione sui driver In questa lezione infatti terminerò le informazioni che riguardano proprio questo percorso In particolar modo cosa fare quando i driver non servono più Quindi come rimuovere i driver? I driver normalmente vengono rimossi se danno problemi oppure se non servono più In quanto la periferica non è più impiegata Credo che hai capito che per testare dei driver devi far uso della virtualizzazione Ma andiamo per ordine Se devi disinstallare dei driver e questi driver sono stati installati come dei programmi Quindi tramite un file eseguibile Per la disinstallazione dovrai agire dal pannello di controllo Andando ad individuare il pulsante programmi e funzionalità Ma per questo ti rimando alla visione della lezione 72 Ancora meglio al video tutorial relativo che ti ricorderà come disinstallare dei programmi In caso di periferica attualmente in uso e collegata al PC Dovrai verificare in alternativa l'eventuale programma di disinstallazione che è integrato all'interno della cartella dove è posizionato il programma stesso Mi spiego Puoi accedere a questa cartella tramite il pulsante Start Cliccando poi sul pulsante Tutti i programmi Andrai ad individuare la cartella che porta il nome del programma E potresti trovare al suo interno il pulsante di disinstallazione del programma stesso Dei driver stessi In inglese anche con la sigla Uninstall A questo punto una cliccata sopra a questo file e si avvierà la procedura di disinstallazione Se la periferica invece non è più in uso e i driver però rimangono all'interno Questi costituiranno una scoria inutile all'interno del sistema operativo Naturalmente sarà opportuno rimuoverli Come puoi verificare ciò? Apri gestione dei dispositivi dal pannello di controllo e accedi al pulsante Visualizza Si aprirà un menu e clicca sul pulsante Mostra dispositivi nascosti Se noterai dopo aver cliccato su questo pulsante una lista di dispositivi leggermente trasparente Ciò indicherà che questi saranno i driver di dispositivi non più in uso A questo punto puoi cliccare su questi dispositivi con il pulsante destro E dal menu che si presenta clicca ancora su Disinstalla Ciò avvierà la rimozione di questi driver Se non noti nulla in trasparenza dopo aver abilitato la visione dei dispositivi nascosti Ciò può significare o che non hai periferiche nascoste oppure devi attivare l'opzione di visualizzazione Non ti preoccupare, nulla di difficile se segui questa prossima schermata Dovrai cliccare sul pulsante Start ed accedere al pannello di controllo Dopodiché troverai un pulsante denominato Sistema E successivamente al suo interno un nuovo pulsante chiamato Impostazioni di sistema avanzate Si aprirà a questo punto una nuova schermata E al suo interno dovrai individuare il pulsante Variabile d'ambiente A questo punto dovrai aggiungere una variabile di sistema Quindi all'interno di questa sezione vai a cliccare sul pulsante Nuova Dovrai eseguire un copia e incolla all'interno del campo Nuove Variabile della stringa qui evidenziata Device Manager Show Non Present Devices E all'interno del campo Valore Variabile scrivi il numero 1 Quindi dovrai copiare ed incollare questa stringa da inserire all'interno del campo Nuove Variabile E il valore 1 all'interno del campo Valore Variabile Ora clicca pure su OK nelle varie finestre E potrai visionare in seguito se all'interno della lista dei dispositivi Nasce qualche lista di dispositivi nascosti da disinstallare In questa figura rappresentiamo quanto appena definito Quindi dopo che hai raggiunto le impostazioni avanzate di sistema Da questa schermata che si presenta dovrai cliccare sul pulsante Variabile d'ambiente Si aprirà questa nuova finestra E dovrai aggiungere quindi una variabile di sistema Cliccando sul pulsante Nuova In queste due sezioni dovrai proprio aggiungere La stringa che ti ho evidenziato nel nome variabile E il valore 1 nel valore variabile Dopodiché clicca pure su OK in queste schermate Per far acquisire questo nuovo parametro Termino la descrizione a questo punto dei metodi di rimozione dei driver Lanciandoti una proposta Dovrai utilizzare alcuni programmi che potrai ben cercare nei vari motori di ricerca Eccoti una lista minima di questi programmi che ti permetteranno A tuo piacere la scelta Che ti permetteranno di disinstallare in assoluta sicurezza i driver dei dispositivi Ma vedrai che questi programmi non eseguiranno soltanto questa opzione Se invece di rimuovere devi aggiornare i driver Come puoi fare? Naturalmente dipende dalla tipologia di driver Se è un file eseguibile dovrai replicare l'azione dell'installazione Come se fosse un nuovo programma A volte durante l'installazione di questo driver Quindi durante l'aggiornamento Potresti aver notificato durante la procedura Che è in uso una versione software precedente Che deve essere per forza di cose disinstallata Prima del nuovo aggiornamento Ma non sempre avrai questa notifica Nel caso che tu non abbia la notifica Procedi con l'installazione pura Comunque acconsenti pure ciò che ti notifica il sistema operativo Se invece i driver si presentano come una cartella All'interno della quale sono presenti dei file Dovrai regarti in gestioni periferiche Che ormai ben sai come raggiungere Individuare il dispositivo a cui dover aggiornare i driver E clicca su di esso con il pulsante destro del mouse Dopo individua il pulsante aggiornamento software dei driver E cliccaci sopra con il pulsante sinistro Per avviare l'aggiornamento Indirizza durante l'aggiornamento come sempre La procedura all'interno della cartella Dove sono presenti i nuovi driver E avrai l'aggiornamento degli stessi Puoi eseguire la stessa cosa anche da proprietà del dispositivo Cliccando con il pulsante destro del mouse Si aprirà una nuova schermata All'interno di questa schermata puoi regarti nella sezione driver E cliccare sul pulsante aggiorna driver Eventualmente una metodologia se vuoi più semplice Sfruttare dei servizi online che possono essere gratuiti o a pagamento Per ottenere ed aggiornare i driver delle periferiche Presenti all'interno del tuo computer O meglio all'interno del tuo sistema operativo Come puoi vedere c'è un'ampia categoria di programmi O servizi web based come si dice Ossia direttamente impiegabili online E quindi ciò necessita una connessione ad internet Oppure tramite alcuni programmi Ti permetteranno di individuare dispositivi presenti all'interno del computer E in alcuni casi anche andare a visionare Eventuali presenze di driver disponibili tramite la casa madre Se nascono problemi durante l'installazione Cosa produce un driver improprio? Naturalmente o un malfunzionamento O un non funzionamento del dispositivo stesso Oppure in alcuni casi viene proprio minata La stabilità del sistema operativo Il quale si blocca Oppure ti va in crash presentando una schermata blu In caso di problemi puoi tentare di reinstallare i driver Ma laddove non risolvi Sarai costretto Sarai costretto a rimuovere questi driver Cercando una versione più affidabile A volte potresti risolvere i problemi Semplicemente tornando alla versione precedente dei driver Un'estrema ipotesi è che potresti tentare di contattare il produttore O del dispositivo o dei driver per risolvere il tuo problema Ricorda che i problemi normalmente si generano Quando c'è un'incompatibilità tra software e hardware Quindi tra driver e periferiche e sistema operativo Quando vengono adeguati correttamente i programmi Quindi i driver e l'hardware, ossia i dispositivi Ciò si verifica con estrema difficoltà Come puoi metterti a riparo da eventuali futuri problemi? Semplice Crea un tuo archivio backup di driver A idea di quanto può essere grande Il lavoro di ricerca, installazione ed aggiornamento dei driver Può essere un lungo percorso E in alcuni casi anche frustrante Per le difficoltà che si verificano Allora la cosa migliore è allontanare lo stress E per far questo è necessario ottimizzare tempi e risorse La scelta quindi è quella che appena hai sistemato tutti i driver Per la prima volta Mettiti in una condizione di agio Ossia realizza una copia di sicurezza di tutti i driver Dei dispositivi presenti all'interno del tuo computer E del tuo sistema operativo In modo da accedere ad essi nel caso serva Ossia nel caso si presenti qualche problema La soluzione che personalmente ho scelto È quella di impiegare dei programmi Nello specifico il programma chiamato driver max Che permettano in maniera molto semplice Di realizzare una copia di sicurezza E tenerla a disposizione sul disco rigido O altra periferica in caso di necessità Ciò ti tornerà utile in caso estremo Di formattazione del sistema operativo E sua reinstallazione Oppure passaggio ad un'altra versione dello stesso Oppure nel caso in cui qualche file dei driver Vada perso più o meno volontariamente In caso di passaggio a versione superiore Di un sistema operativo Però non è detto che venga mantenuta La compatibilità dei driver E il sistema operativo stesso Ma comunque un tentativo È sempre possibile eseguirlo Lo scopo di questi programmi È che realizzano una copia selettiva Di un singolo driver Oppure di tutti i driver Delle periferiche installate All'interno del sistema operativo E permettene in caso di necessità Il ripristino con pochi clic Senza affannarsi nella ricerca successiva Dei driver stessi Dopo aver installato ad esempio Il programma che utilizzo Driver Max Che descriverò più avanti Nel percorso didattico Infatti tra le varie possibilità Che ti fornisce Puoi eseguire il backup Dei driver Ripristinarli E anche aggiornarli Allora Google Vediamo come aggiornare O disinstallare i driver Diciamo subito che se il driver È installato come un programma Potrai accedere dal pannello di controllo A programmi e funzionalità Dopo che si evidenzia la lista Dei programmi Potrai andare a individuare Il driver che dovrai disinstallare E cliccare sul driver relativo E successivamente sul pulsante Disinstalla Questo ripeto se il file Ha un'estensione eseguibile Altra possibilità È cliccare sul pulsante Start Tutti i programmi Individuare eventualmente Ci fosse la cartella Dei driver relativi E selezionare La stessa Per cercare se all'interno C'è un file di disinstallazione Supponiamo per esempio Di cliccare su questo programma E cercare In questo caso specifico Qualora fosse stato un driver Il pulsante Uninstall O disinstalla In italiano Vediamo come Disinstallare i driver Se non si presentano Con un file Eseguibile Clicchiamo dal pannello di controllo Sul pulsante Gestione dispositivi E attendiamo La visualizzazione Degli stessi A visualizzazione Terminata Vai a selezionare La periferica Che devi Disinstallare Cliccando con il pulsante Destro Potrai Disinstallare Direttamente La periferica E quindi i driver Da questo pulsante Oppure seleziona Proprietà E Nella sezione Driver Potrai ripetere La stessa cosa Cliccando sul pulsante Disinstalla Gli stessi Da questa sezione Potrai anche Aggiornare I driver E Avviare la procedura Che ti permetterà Di cercare I driver All'interno del computer Qualora tu li avessi Già scaricati Infatti Cliccando su questo pulsante Potrai Selezionare Tramite il pulsante Sfoglia Ed individuare I file Dei driver Che avrai Scaricato Annulliamo Per il momento Altra possibilità E Cliccare Sulla periferica E selezionare Questo pulsante Direttamente Si avvierà La procedura Come hai visto In precedenza Qualora Tu dovessi Disinstallare Dei driver Di periferiche Non più Collegate al computer Dovrai Visualizzare Queste periferiche Come puoi fare Cliccando su Visualizza Seleziona Mostra Dispositivi Nascosti In questo caso Come puoi ben vedere Puoi trovare Le periferiche Non più Collegate Al computer E potrai Cliccare Con il destro E successivamente Cliccando sul pulsante Disinstalla Avvierai la procedura Di disinstallazione Qualora Non si presentasse Alcun Dispositivo In trasparenza Come in questo caso Potrebbe anche essere O che non hai Scorie All'interno Del sistema operativo Oppure che non hai Abilitato La visualizzazione Come puoi fare Per abilitarla Dovrai Inserire Una nuova Variabile D'ambiente Come puoi fare Clicca sul pulsante Start E successivamente Sul pannello Di controllo Vai a Selezionare Il pulsante Sistema E successivamente Impostazione Di sistema avanzate Si avvierà Questa nuova Schermata Nella quale Dovrai premere Sul pulsante Variabili D'ambiente Naturalmente Dovrai inserire Come detto Una nuova variabile E nel campo Nome variabile Inserisci pure La stringa Dev Mgr Underscore Show Underscore Non present Underscore Devices E nella sezione Variabile Il pulsante 1 Dopodiché Clicca pure Su ok Io non lo eseguo In quanto Come puoi ben Vedere Già è inserita Questa variabile Successivamente Cliccando su Ok Di nuovo Avrai In visione Da gestione Dei dispositivi Eventualmente Le periferiche Nascoste E quindi Poter Disinstallare Come detto In precedenza I driver Delle periferiche Non più Collegate Ti volevo Far notare Una cosa Qualora tu Disinstallassi Una Periferica Attualmente In uso Potrai Certamente Disinstallare I driver Relativi In questa sezione Ma Al riavvio Del computer Avrai Il rilevamento Della periferica Con richiesta Di installazione Nuovamente Dei driver Quindi potrai Disinstallare I driver In maniera definitiva Soltanto Di periferiche Non più Collegate Al tuo computer Termino a questo punto Rimarcando Una nozione Che credo Tu abbia Ormai fatto tua Che Ogni dispositivo Per poter funzionare Necessita Di un driver Specifico E Tali dispositivi Sono tutti Evidenziati All'interno Di una sezione Del pannello Di controllo Gestione dispositivi Che In seguito Mi avvierò Nella descrizione Terminato Il percorso Sui driver Ti rimando Alle prossime Lezioni Per nuove Informazioni Didattiche Ora un forte saluto Ciao a presto Da calo E dalla prossima Ciao a presto Ciao a presto